buonasera e benvenuti nella mia cucina la cucina di a tavola consiglia ragazzi questa sera un nuovo modo di fare le melanzane sfizioso non vi dico fresco perché comunque dovete prima grigliarle però saporito molto saporito e anche piuttosto veloce perché il lavoro maggiore è nel grigliare le melanzane poi il resto sono un quarto d'ora di forno quindi insomma niente di che prima di tutto voi mettete un bel like a questo video perché se lo merita ragazzi fidatevi di me iscrivetevi alla pagina premete anche la campanella e allora possiamo andare avanti possiamo andare avanti avete fatto perché se non andiamo avanti ci hanno fatto allora gli ingredienti scusate c'è un po di rocetine 50 g di parmigiano reggiano grattugiato qualche foglia di basilico due bocconcini fatti a fette finemente lo tagliate prima perché così esce fuori un pochino di latte come vedete ce n'è già tantissimo su in fondo un po di sugo fatto con un pomodoro e basilico semplice 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 origano sale l'olio il nostro fantastico olio eh sì lasso nella manica ragazzi vi metto in info box il loro sito andate a dare un'occhiata perché un rapporto qualità prezzo come il loro difficilmente lo troverete vero e prosciutto cotto ora io qui ne ho circa un atto e mezzo non credo che potete utilizzare tutto ne serviranno 45 sette non di più ok lanciare di una zona e quante le melanzane sono tre di quelle tonde grandi le altre stanno ancora grigliando prende una melanzana metto un pochino di pomodoro diciamo un cucchiaino e mezzo ok la fettina di mozzarella la foglietta di basilico che devi dire amore dicevo hai fatto sulla metà quindi esatto c'è un trucchetto esatto un pizzichino di sale un pizzichino di origano che col basilico ragazzi ci sta benissimo se non vi piace l'accoppiamento potete metterlo uno o l'altro e lo vado a chiudere in questo modo così fare il panino faccio il palino questo un attimino qui è uscito un po di pomodoro ecco qua e adesso la faccio col colciutto cotto metto che bell'idea qui tutta intera la mozzarella un pizzichino di sale e chiude il panino eccoci qua scusate ragazzi proprio ragazzi che spettacolo su quelle con il pomodoro sporco leggermente la sommità con altro pomodoro e vado a spolverare con un po di parmigiano grattugiato è una sorta di parmigiana rivisitata esatto una parmigiana monoporzione invece le altre le lascio esattamente così continuo a fare tutti i miei tramezzini diciamo e ci vediamo qua una volta pronti eccoci qua ragazzi sono pronte guardate che carine guardate che spettacolo ragazzi i nostri tramezzini di melanzane mettiamo un filo d'olio proprio appena così di passaggio e il forno già preriscaldato a 190 gradi per 12 13 minuti riprendere i forni ok intanto con le altre le ho fatte cioè hai praticamente fatto tre ricette parma parmigianina scomposta non so come definirla questa con il cotto tra mezzini di melanzane e quest'altra eh visto questa invece come l'hai fatta queste le ho fatte grigliate con olio aceto peperoncino olio e sale e passa la paura e passa la paura tutte melanzane e no ci sono anche i peperoni vabbè ma quella è un'altra storia quella è un'altra storia a tra poco ciao eccole qui ragazzi sono pronte sono pronte in quarto d'ora e la cena è servita guardate che meraviglia ragazzi quale vuoi io voglio provare questa qui con il cotto questa si proprio questa qua si quella lì mi ha chiamato mentre la portavo a tavola sono tenerissime amore però scottano da morire questo aspetta soffio guardate che spettacolo ragazzi guardate che ben ripieno veramente non saprei quale scegliere ma prova è buona eh se poi ragazzi le fate fritte anziché farle grigliate sono ancora più appetitose e se volete anche un piccolo consiglio su quelle con il prosciutto cotto potete mettere un pochino di pan grattato condito ci vediamo alla prossima ricetta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti